Abbiamo mandato forte e chiasso, come dice un grande maccio capatonda. Ricorso è tutto illegittimo quello che si sta facendo, quindi solo la magistratura può rimettere a posto le cose in difesa della Costituzione. Andiamo avanti con il nostro piano, con le nostre idee e non molliamo di un centimetro, quindi questa è la nostra posizione.